Benvenuti ragazzi a quest'ultima puntata dei video tutorial per iPhoto su iOS. In questa puntata creeremo una presentazione finale con le fotografie utilizzate nei tutorial. Allora, creiamo una presentazione. Allora, andiamo ad aggiungere tutte le fotografie che abbiamo trattato. Ok, magari qualcuna relativa alla puntata sugli effetti la tralasciamo, se no abbiamo troppe immagini uguali. Allora, le fotografie le abbiamo tutte inserite. Da qui possiamo iniziare a scegliere le opzioni della presentazione. Allora, vogliamo utilizzare pannelli scorrevoli. Mettiamo una riproduzione più lenta, mettiamo riproduzione musica. La musica è una di default scelta per pannelli scorrevoli, quindi avevo già detto che potevamo scegliere tra la musica personale oppure tra altri effetti predefiniti. Scegliamo quello di base, vediamo come va. Ok, la velocità è corretta, però non mi piace particolarmente la musica, quindi andiamo a sceglierne un'altra. Proviamo così. Molto meglio questa. Allora, esportiamo la nostra presentazione con iTunes in formato HTML e poi ve la legherò direttamente alla fine della puntata, perché, insomma, è un peccato guardarla dallo schermo dell'iPhone e possiamo riprodurla sul Mac in fase di montaggio. Quindi la stiamo esportando, poi la andremo a prendere dalla condivisione file di iTunes e la potremo visualizzare come una pagina web classica in qualsiasi browser. È anche possibile, come avete letto, fare l'esportazione solo delle singole immagini, ma vanificherebbe, insomma, il lavoro di creazione della presentazione. Purtroppo in iPhoto o sul Mac ancora non esiste una possibilità di importazione della presentazione. Se proviamo a trascinare la cartella ci importerà le immagini e anche tutti gli elementi grafici della presentazione, insomma, quelli presenti nell'applicazione, come se fossero delle semplici immagini. Non ci sono grandi opzioni sulle presentazioni, solo la possibilità di cambiare l'ordine delle immagini. Allora, il videocorso è finito. Spero sia stato utile a qualcuno. A presto! Spero sia stato utile a qualcuno. Spero sia stato utile a qualcuno. Spero sia stato utile a qualcuno.